Ormai sei diventato un ospite fisso di questo appuntamento della giornata olimpica, una bella responsabilità no? Sì sono contento della cosa e soddisfatto che vuol dire che stiamo raccogliendo i frutti e riuscire a essere qui tutti gli anni vuol dire che tutti gli anni faccio bene quindi è giusto che sia così. Adesso per il prossimo futuro che programmi hai? Avrei dovuto combattere il 23 dicembre ma poi per un discorso come ben sapete il pugilato è molto complesso quindi siamo in trattativa per una difesa IBF e essendo sotto trattativa non posso combattere ed evitare che mi faccia male.